Signori bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake Nell'ultima puntata abbiamo battuto un aborto vivente Abbiamo conosciuto una persona di cui ancora non sappiamo molto, abbiamo solo visto E ci troviamo qua nel parcheggio Ci troviamo, abbiamo esplorato un bel po', sappiamo che qua dentro ci sono dei cani E ci rimane da esplorare quest'aria qui Da questa porta, tutto quello che è da questo lato l'abbiamo fatto e preso Adesso vediamo cosa si nasconde in quest'altra area Deve esserci per forza qualcosa Ok, queste penso saranno le celle Quindi questo carcere aveva le celle sotterranee Cos'è? Ah, mappa centrale di polizia Oh, abbiamo la mappa Guarda qui, qua ci siamo dimenticati una cosa Stanza del generatore Qua c'era una porta, ma mi pare che era chiusa No, era questa Ma mi sa che non si può accedere Boh, non lo so, magari abbiamo dimenticato Oh, dei colpi, graditissimi Eh, ok, qua non c'è più niente Però, aver preso questa mappa qui è molto comodo Non ti alzare! Mamma mia, qua è pieno di celle Minchia, ci sono pure gli zombie Ma, eh, niente Dobbiamo procedere Ma qua le celle sono piene di... Mamma mia, se sono fatti bene, raga Mamma mia I suoni È tutto fatto benissimo, raga Cos'è? No, si apro le celle... Ok, meno male Non c'è corrente Minchia, mi stavo cagando Che cazzata che stavo facendo Oh, che razzo è? E là? Ehi! Non posso crederci Un essere umano Ciao, umano Sei qui da molto? È abbastanza Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri Ah, buona notizia, credo Sì A meno che non stia aiutando Irons Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa? Spero sia finito in pasta a quelli Che vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui Beh, avrà avuto le sue ragioni Ma certo Stavo per pubblicare le sue porcherie Penso che io avrei fatto lo stesso Ehi, facciamo un pazzo Tirami fuori e ti do questo È l'unico modo per uscire dal parcheggio No, la testa del parcheggio Scusa, non posso farlo Devo parlarne col commissario Ma Lione, ma che cazzo fai? Siamo entrambi i prigionieri qui Quindi o collaboriamo E riusciamo a uscire O... Merda Arriva Cosa? Chi arriva? Avanti Ma che è? Non fare lo stronzo Ne avrai bisogno Tirami fuori da qui, cazzo Oh, wow Ma cos'è? Questo santo Ma cos'è? Ben Era un informatore Aveva dati utili alle mie indagini Quindi non stava, mi intendo Ehi, non può continuare ad andarsene Non so neanche il suo nome Mi chiamo Leon Kennedy E sono lo sceriffo Deglielo Trova come uscire Leon C'è poco tempo Poi parleremo Mi chiamo Ada Ada Vale ancora il patto? Eh, vale ancora il patto È morto O vale, o vale No Che cosa diavolo? Ah, però la cella è chiusa Madonna E devo aprirla da qui? Minchia E qua che cazzo ci serve? Cosa c'è qua? Oh, la manovella Quella che serviva Alla centrale di polizia Per alzare la serranda Una nota Quadro elettrico delle celle Ah, ci vogliono Dei componenti del quadro elettrico Alcuni dovrebbero trovarsi Nella sala generatore E un altro Alla torre dell'orologio Eh, sappiamo i luoghi Sappiamo Allora Noi siamo nelle celle La sala del generatore è qui Quindi dovremmo ritornare indietro La torre dell'orologio Non lo so Ma presumo dobbiamo salire In più quale celle Ce lo indica rosso Perché vabbè Magari dentro qualche cella C'è qualcosa Ma fin quando non le apriamo Non possiamo saperlo Ed è tutto chiuso E per adesso E anche un bene che non si aprono Dato che è pieno di Di non morti Allora Dobbiamo tornare indietro Non ti alzare Dobbiamo tornare indietro E qua Dal parcheggio Dobbiamo riandare lì Minchia Io ho paura Perché andando avanti I luoghi non sono sempre uguali Qua non è libero Potrebbero sempre Alzarsi zombie Come quelli del poligono Che prima erano a terra E poi la seconda volta Ci siamo passati Erano in piedi Però per adesso Ci sta andando di lusso Allora Il corridoio è questo E noi in teoria Tirando dritto Abbiamo questa A meno che si sposta No È bloccato Da qui è chiuso Perché non c'è elettricità Quindi quale cazzo è il modo Per passare dall'altro lato Mi sembra di intuire Che dobbiamo passare Dal canile Forse c'era un altro passaggio Perché qui è chiuso pure Però dal canile andiamo Noi dall'altra parte Di questa stanza Comunque i cani Non si rialzano più E questo è un bene Ok usciamo da qui E la sala del generatore È qua No questo è l'obitorio Ah ma abbiamo trovato il coso Qua c'è la serranda A posto Ecco come possiamo andarci E ce n'era un'altra Alla centrale di polizia Quindi sicuramente Non la scartiamo Questo oggetto Non lo scartiamo Vediamo Sì ce l'abbiamo ancora Vedete Quindi noi siamo adesso In quest'area qua Dove possiamo accedere Alla sala del generatore Che deve per forza Aprirsi Esatto Lì c'è una pianta verde E la prendiamo Minca sento dei cani Brutto brutto I cani no Qua c'è ancora qualcosa No li sento Ma non li vedo Cos'è? Scatola componente elettrico Ok si apre Ah Eccolo qua Questo è quello che dobbiamo mettere lì Ma sono due Madonna sento dei rumori Di merda Sarà lì Minca lo sento camminare Inquietantissimo E' qua E' qua da qualche parte Ragazzi Dove Forse di sopra Qua ci sono degli interruttori Devo Far coincidere la pressione Da entrambe le parti Così Ok Abbiamo attivato quella porta lì E questo è un Oddio Vai dall'altra parte della rete Oddio No 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 Meno male che Si è buggato Meno male che si è buggato Dai Non possono essercene troppo Mamma mia raga Qua con i cani è bruttissimo Però Ce la stiamo giocando troppo bene Questa run di Resident Evil Abbiamo risorse Abbiamo tutto Ma qui non possiamo fare eccezione I cani vanno eliminati Morto? Minchia mi sono cagato raga Ce ne sono ancora Oddio Oh cazzo Minchia di riflessi Che ho L'avete visto raga Che cazzo di riflessi Ho io Porca puttana Ho sbagliato Ho spiegato un colpo Abbiamo ancora il pompa Abbiamo tanti colpi del pompa Abbiamo un mare di medicinale No no Siamo messi proprio bene Ce la stiamo giocando bene Stiamo uccidendo soltanto Quello che Che è necessario uccidere Capito? Non stiamo Non ci stiamo mettendo lì A sparare zombie No Oh 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 Porca puttana Raga Ok adesso il dubbio È Come salgo alla torre dell'orologio Tanto qua abbiamo dimenticato una polvere del sparo Male E io ho sbagliato Non dovevo andare qui Devo ritornare indietro Ed è un bene Perché ci andiamo a riprendere Pure la polvere del sparo Allora Perché noi dobbiamo andare da lì Perché si è aperta la porta Ma fammi ritornare indietro Che la polvere del sparo Ah Può essere comodo Tra l'altro i cani muoiono in 3-4 colpi E non si rialzano Quindi dai Alla fin fine Non è proprio male come cosa Vero Abbiamo sbagliato un po' di colpi Ma è vero anche che di qui Noi dobbiamo passarci Questo è l'obitorio Usciamo usciamo Non si sa mai c'è qualche zombie vivo E vediamo i colpi Tipo all'obitorio lì eravamo chiusi Diciamo che abbiamo ucciso Abbiamo ucciso gente Che non potevamo fare a meno Qua dovrebbe esserci una polvere del sparo Eccola qua Perfetto Vediamo adesso Dov'è la mappa Perfetto Adesso dovremmo poter accedere In quella stanza Che prima era chiusa Perché abbiamo attivato Diciamo l'elettricità Ma l'elettricità non di tutta la zona Ma di una certa aria Perché ancora le celle Mi auguro siano chiuse A meno che sia possiamo aprirle Ma non avrebbe senso Che stiamo prendendo quei circuiti Quindi Allora Questa è la È la La cosa La stanza Ok in che aria siamo? Che siamo su un corridoio Che sale Stiamo salendo? Che cazzo siamo? Ma Ma guarda Siamo di nuovo Nella centrale di polizia Ma è fantastico Guarda come si Ci siamo collegati Pianta blu Oh cos'è? È una safe room? Mamma mia Che bello Che bello Combiniamo queste qui E le depositiamo Il circuito lo Lasciamo Lasciamo tutte per com'è Ci prendiamo soltanto il rullino Che ora ci servirà È un'altra roba Molto utile Da portare Potrebbe essere Siamo già attrezzati così Salviamo E andiamo avanti Ah qua c'è altra roba Cos'è? Olbere da spa Di alta qualità Potremmo fare dei colpi pompa Ma per adesso Depositiamo tutto La situazione non lo richiede Noi non sappiamo onestamente Su cosa spendere Però qua mi risulta Che c'è ancora qualcosa Da qualche parte A meno che Questa qui è tutta collegata Penso di sì È ancora in rosso Qua segnato C'è qualcosa Guarda qua quante finestre Questa è una safe room No 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 Eh lo sapevo Barra tutto qua Aspetta ce ne sono altre Ok Eh le assi ce le abbiamo Però Troppe finestre Oh cazzo Uno zombie qui No 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 Ragazzi non si sa mai Barriamo tutto Due Oh Critico Fuori uno Barra tutto Barra tutto Questo è un punto pericolosissimo Non vedo un cazzo però Eh qua manca un fusibile Porca puttana Fusibile che non abbiamo Cos'è Ah un coltello Oddio ma non ti avevo visto E lui non ha visto mai Quindi Cazzo E poi c'è ancora qualcosa Ma è bagato questo Questo si sta facendo I propri cazzi suoi Incredibile Oh Stava cadendo addosso Quindi qua ci vuole Il fusibile Chissà che dobbiamo Passare da quest'altro lato Ah ma sa Fa sempre parte Della safe room Ecco perché mi diceva Che c'era qualcosa Munizioni del meg Ma che noi non abbiamo Guarda lì Vediamo se possiamo Prenderla così Eccola lì Cos'è Ah eccola qua Il fusibile Combi Cioè no combina Esamina Ok fusibile Corridoio Saletta Qua per adesso va bene Colpi Stiamo finendo Però questi zombie Sono morti Il problema è questo Eh si è bagato Speriamo che lo resta Tanto usiamo il fusibile Eh si è messo Loro davanti alla No Guarda chi c'è Quello che ci ha dato Il tacquino E' morto Un colpo Godo Eh dobbiamo eliminarlo Raga Oppure ne approfittiamo Andiamo andiamo Guarda come si stava Rialzando Spero che qui Non abbiamo lasciato Troppe Robe C'è ancora qualcosa Ma che cosa ho lasciato Qua madonna Trova che c'è ancora Ancora No 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 Sti cazzi Sti cazzi Siamo senza colpi Ci ritorneremo In un secondo momento Per adesso Ricolleghiamoci Alla sala centrale All'atrio principale Comunque Mi sta venendo in mente Una roba Che molto probabilmente Mi sa che Marvin Adesso È uno zombie È passato troppo tempo L'ultima volta Era proprio Già in crisi Allora Il problema è che Se è uno zombie Lui si trova All'interno di una safe room Comunque a noi L'atrio serve libero Ma dove cazzo È Marvin Oh Minchia Spero Spero Oh cazzo Ancora vivo Ho gli ultimi 15 colpi Dai dai Marvin Non farmi spiegare troppi Ok Spero sia No Bene Adesso noi possiamo fare Tante cose Possiamo fare tante cose Perché possiamo sia Aprire La Il coso con la leva Quindi dobbiamo andare Nella scala Antincendio E salire Sia Tutte le porte di quadri Possiamo aprirle E porte di quadri Qui non ce n'è Al piano di sotto Vediamo Se al piano successivo Se già troviamo qualcosa Le docce Le docce C'era un armadietto Che tra l'altro A proposito di armadietto Andiamo un attimo Qui nelle docce Perché vi voglio far vedere Una roba Aspetta ma la manovella Può essere pure nel creek No Nelle docce C'era una roba interessante C'era in un episodio Mentre di tavoli episodio Entro in una stanza Dove c'è una lavagnetta Con scritto cap Sai mi era passata l'idea Oddio No ma Porco Questa zona qua è da evitare Mi ero dimenticato il leaker Mi ero dimenticato il leaker Guardali che infame Ci andiamo da un'altra parte Piuttosto Qua si è rialzato Mezzo mondo Ah eccola Una porta di quadri Dodo Completamente a caso È una lavanderia Cosa c'è? Polvere da sparo Dai non male Ci facciamo un po' di colpi Che stiamo scarseggiando Ah Un'altra cosa Magari troviamo un altro tasto Allora vediamo Ok L'ho aperta Mamma mia Stavolta ci ho messo Molto meno tempo però Ti giuro Oh Tasto di ricambio Quindi questo qui Dovremmo riportarlo All'arme Alla sala degli armadietti Lì Con il codice Minchia Tante cose Stiamo trovando Nell'ufficio starse Non abbiamo ancora la chiavetta Che qua addirittura C'è un'arma Ma però procedendo di qui Ci sono le docce Teoria non dovrebbe sentirci Piano Non facciamoci prendere dal panico Non ce l'ha con noi Panico Che culo Che culo Ok ok Qua c'era un'arma dietto Quindi fammi provare Se c'è Il cap È giusto Se potrebbe essere questo Madonna I colpi pompa Ok ok Però ci siamo liberati Un'altra area Quindi era giusto L'indizio della lavagnetta Ma vedi tu Eh Ci rimane un casino di zona Dovremmo andare qua Nella sala d'attesa Questa cosa c'era Ah qua c'è una cassaforte Non sappiamo la combinazione Però lì c'era una zona Che poi si apriva Con la serranda Con la serranda Quindi noi dobbiamo Aspetta no no Intanto aspetta Aspetta di qua Se scendiamo C'è la safe room Dove intanto è E qua passiamo pure dal tasto E io qua Li zombie Qua c'è ancora le bar Io la maggior parte Delli zombie Li avevo fatti E qua abbiamo il rullino Ok Metti il rullino Dov'era Eccolo qua Ah L'armadietto DCM Vaffaculo Alla chiave di quadri Non serve più Eh due porte Ok Riepilogo della situazione Allora Di colpi Non siamo messi benissimo Però abbiamo un paio Di polvere da sparo Potremmo prendere La polvere da sparo Dovemmo avere un'altra Ah ecco Ce l'abbiamo già qui E abbiamo altri 13 colpi Che schifo Sicuramente non ci fanno Questo lo depositiamo Perché per adesso Dubito ci possa servire Io mi prenderei La gemma rossa Perché probabilmente Potremmo anche usarla E mi sparo Uno Stato che non stiamo Proprio benissimo Ok Adesso ci rimane Di prendere Eh Gli armadi Intanto il tasto E abbiamo pure La combinazione Di un armadietto Andiamoci a fare prima L'armadietto Era DCM Oppure dove si trova In cima a queste scale Al terzo piano Non male che Molti Molti zombie Come vedete Nelle zone Più brutte Li abbiamo eliminati Era questo Minchia che bello Levarsi questi armadietti Dei coglioni Quindi DCM Oh Eccolo qua Dammi qualcosa di utile Ah Proiettile del mag Ma noi non manco Ce l'abbiamo Però dai dai Ci sta Ci siamo liberati Tutta sta zona qua Adesso mettiamo Il tasto Che sarà Molto utile Non mi ricordo Cosa ci rimaneva Da prendere Non penso Chissà che cosa Ah Questo zombie qua C'è da una vita Eh Non so quante volte L'ho atterrata Oh Porco Addio mio Qua come cazzo Ho fatto Prendi il pompa Io vorrei tentare Una roba Gli tiro una stordente Dobbiamo eliminarlo Questo raga Io pensavo Gli tiro una stordente E lo finisco Col pompa Aia Porco Di quel cane Aspetta Dai 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 Ricarica L'ho fatto Mamma mia Mamma mia Siamo messi malissimi Ma era Era necessario Era necessario E onestamente Inizio a valutare L'idea di andare Di pompa Perché Già i leakere Che si spostano Così non è un buon segno Andiamo col pompa Comunque Mia personalissima opinione Penso sia Uno dei migliori Giochi di zombie Che io abbia mai visto Proprio su come Sono fatti E su tutto Mettiamo il tasto E per forza Qui Ok Adesso chiamiamo pure Il 3 Possiamo aprirle tutte Vediamo soltanto Quale ci manca Qua sono tutte aperte Solo da questo lato E ci manca Il 203 Ah il borsello Minchia se era utile Ok 203 203 E abbiamo altri due slot Inventario In più Fanno stracomodo A noi Eccolo qua Guarda già che inventario Capiente Ok ragazzoli Io direi Che per questo episodio Noi ci salutiamo Qui Abbiamo fatto Tutto ciò Che potevamo fare Tranne una cosa Che andremo a fare Nel prossimo episodio Ovvero Quello di prendere La manovella Questa qui E portarla nella serranda Dove si è schiantato L'elicottero Quindi Nel prossimo episodio Lo faremo E vediamo Cosa riusciamo a fare Alla prossima Ciao Alla prossima